sono riuscito a recuperare in tempo per l'inizio del ritiro quindi sono molto contento sono rimasto qua qualche giorno in più a milanello sia dopo sia prima del ritiro per riuscire ad essere al 100 per cento da subito con il mister nuovo era una cosa che volevo fortemente per fortuna insieme lo staff medico siamo riusciti ad esserci al completo sicuramente tanti sta mettendo tanti tanti aspetti di gioco del suo gioco all'interno del gruppo non è facile dire comunque stanno arrivando pian piano giocatori e non sono ancora arrivati tutti quindi non sarà facile non è un lavoro facile anche per lui però noi che siamo qua dall'inizio si vede anche in campo da tutti gli aspetti di gioco che ci viene più fluida la manovra sappiamo bene cosa fare in determinati aspetti della partita in determinati momenti della partita quindi ovviamente dobbiamo continuare su questa strada non è non è facile dobbiamo migliorare soprattutto tanti dettagli perché il mister è ossessionato dei dettagli e dovremo essere bravi noi a sfruttare questo tre campionati molto molto attento in tutto e per tutto segue lui in prima persona sia aspetto difensivo che offensivo e appunto nei dettagli per come giochiamo noi dovremmo essere bravi nei dettagli in tutte le partite perché se se sbaglia uno sbaglia tutta la squadra quindi stiamo lavorando sulla sulla precisione vedremo adesso buoni test che abbiamo fatto devo dire che con la squadra siamo siamo migliorati dalla prima la terza partita mi chiedevo che abbiamo fatto siamo migliorati sempre quindi siamo contenti di come stiamo andando mi sarà contento e vediamo adesso di di inserire anche i nuovi giocatori sarà un processo ovviamente lungo ma sono contento di come il mister beh riconfermare quello che ho fatto vedere l'anno scorso anche se sono convinto che posso dare ancora molto di più e ancora tanto e ovviamente l'obiettivo della squadra è davanti al mio obiettivo personale voglio fare bene voglio fare ancora meglio dell'anno scorso per giocare tante partite vogliamo arrivare appunto in champions che l'anno scorso c'è mancato ci è mancato poco e quest'anno vogliamo riconfermarci siamo tutti giovani ma c'è già qualche anno che siamo qua che sono qua a milanello e faccio parte della squadra milan quindi ovviamente siamo siamo quasi i più vecchi di che non siamo questa maglia quindi ovvio che se c'è qualcosa qualcuno chiede a quelli che è qui da più tempo e stessa cosa per per la staff e per tutte le persone che sono a milanello ormai è diventata una famiglia per me quindi ovvio che mi trovo bene e mi sono consapevole di questa cosa sono appena arrivati quindi ancora ancora presto per loro oggi si stanno fatto forse tre quattro allenamenti quel gruppo quindi non non giudichiamoli sono sono bravi i ragazzi perché si si sono impegnati fin da subito sono molto disponibili quindi ci parlerà il tempo l'agговiva l'agговiva l'agгápio l'agговiva l'aggraire